Sento una voce continua che mi dice che sono lontana da realizzare i miei sogni. Chi è quell'uomo? È Shelley. È bello, vero? Voi scrivete? Sì, ma niente di importante. E per voi, se è lecito chiederlo, che cos'è importante? Tutto ciò che fa gelare il sangue nelle vene e accelera il battito del cuore. Allora è vero che sei innamorata di quel Don Giovanni? Voi pensate che mi imparti qualcosa della mia reputazione? O della vostra? Venite via con me. Siamo stati invitati a Ginevra da Lord Byron. Signor Shelley! Piacere. Il mio matrimonio è stato un errore. Come hai potuto? Tu non sei neanche lontanamente l'uomo che immaginavo. Io non sono affatto il grande architetto della nostra sofferenza, Mary. Ognuno di noi scrive una storia. Una storia di fantasmi. Guardate oltre. Trova la tua voce, Mary. Che cos'è la vita se non abbiamo l'amore? Voi non morireste per amore. E la sconfitta, la morte, il tradimento. Tutto questo è presente in questa storia. E io non rimpiango niente. che cos'è la vita. Grazie a tutti.